Benvenuto o benvenuta ad una nuova lezione di MasterExcel.it Oggi vediamo le tabelle su Excel Tu dirai, vabbè, sono su Excel, questa è già una tabella, sono già in una tabella, giusto? Sbagliato Questa per Excel non è una tabella, tu la puoi chiamare tabella, ma di fatto è un intervallo E come facciamo a inserire una tabella? Lo vediamo subito dopo la sigla Allora, selezioniamo l'intervallo e premiamo CTRL T Voilà, così possiamo inserire una tabella, infatti ci dice Crea tabella, ci apre questa finestra di dialogo Abbiamo già selezionato il nostro intervallo E qui abbiamo la spunta, tabella con intestazioni In questo caso, sì, sono queste qui in alto, le intestazioni Quindi diciamo OK Ecco, questa è una tabella secondo Excel Infatti se ti ci posizioni dentro, ti apre qui Progettazione Se esci se ne va Innanzitutto noti che ha applicato una formatazione, uno stile, dopo li vediamo Qui abbiamo la colonna 1 che in effetti possiamo rinominare, venditori in questo caso Doppio clic, ecco qui, poi abbiamo i vari mesi, 4 mesi e poi il totale, questa è una somma, l'ho fatta io, è una funzione, la dovresti conoscere Il bello della tabella è che di base ti inserisci i filtri Poi anche se sei da qualsiasi parte nel tuo foglio, premendo qui puoi andare nella tabella, in questo caso nominate in automatico tabella 1, eccola E in progettazione hai varie opzioni, la prima è rinominare la tua tabella Quindi direi venditori, vendita quadrimestrale, una cosa del genere, in questo caso Nel nome però non puoi mettere spazi, è importante Te la puoi cavare con il tratto basso o tratto alto o con il punto La puoi anche ridimensionare qui da proprietà Quindi selezionare magari un intervallo, intervallo non tabella, intervallo più grande Qui la puoi trasformare in pivot Argomento del corso Excel avanzato Rimuovere i duplicati, funzione che dovresti conoscere E convertire l'intervallo Che vuol dire? Anche se sei in qualsiasi punto della tua tabella Convertendo in intervallo La riporti appunto in un intervallo di dati normale Non c'è più la tabella come puoi vedere anche da qua Quindi torniamo indietro Ecco qui, progettazione di nuovo Inserisci filtro dati Questo non dovrebbe essere presente in tutte le versioni di Excel Dovrebbe essere presente solo dalla 2010 in poi E lo vediamo a fine video che tra l'altro è molto importante Ora ci interessa questa parte qua Intanto righe di intestazione Le possiamo togliere o lasciare inserite Riga totale Ecco questa riga è un po' particolare Perché fa il totale Dell'ultima colonna Sempre dell'ultima colonna Siccome nell'ultima colonna In ogni cella C'è il totale su ogni riga Qui ho il totale complessivo Molto semplice O meglio La somma di tutto È quello che fa di default In vero puoi utilizzare Fammi premere Ecco qua Altre funzioni Magari media Conteggio Massimo Minimo Deviazione standard Eccetera Eccetera Riga alternata in evidenza Sostanzialmente È metterne alcune in chiaro Alcune in scuro Prima colonna Cosa fa? Nulla di complicato Mette in grassetto Quello che c'è scritto nella prima colonna Analogo per ultima colonna In vero in alcuni stili Cambia E le mette un po' più scure Sia la prima che l'ultima Oltre che in grassetto Colonne alternate in evidenza Questo è come le righe Però Non lo so se ti può essere utile o meno Di solito non si usano Sia le righe Che le colonne alternate In contemporanea Per lo meno E poi Infine abbiamo il pulsante Filtro Ovvero i filtri Questi qui Che ti consiglio di lasciare Però se vuoi Puoi togliere Qua In stili tabella Abbiamo una semplice Veste grafica Sono tutti stili prefatti Ne hai di tre tipi E hai quelli in chiaro Sono questi Quelli medi E scendendo più in basso Hai quelli più scuri Se nessuno di questi Ti dovesse piacere Puoi andare su Nuovo stile tabella E fartene uno tuo Oppure cancella E togli qualsiasi stile Ma non togli la tabella Come vedi C'è ancora la tabella Tabella 1 Eccola qua Non abbiamo ancora finito Di fare la panoramica Di tutte le funzioni Della tabella Perché ce ne manca una Questa Inserisci i filtri dati In italiano c'è un problema Perché uno dice I filtri Vabbè Ce li ho già Sono questi No Questi non sono filtri Sono filtri dati Ovvero Slicers Chi ha già seguito Il corso Excel avanzato Ha capito di cosa sto parlando Chi ha versioni Dalla 2007 Compresa in giù Non dovrebbe avere Queste cose Che sono utilissime Vediamo intanto Come è strutturato Il database Abbiamo i venditori In colonna A Eccoli qui E poi abbiamo Il mese di gennaio Febbraio Mars aprile E il totale Eccoli qua Così per come sono strutturati Non ha senso Filtrare Per queste colonne Quindi dalla B In giù Perché qui Cosa abbiamo Abbiamo dei valori Ha senso Filtrare Solo per venditori Quindi mettiamo La spunta venditori Premiamo ok E ci crea Fammelo spostare Quello che in inglese Si chiama slicer E non ha ambiguità In italiano Si chiama filtro dati Filtro dei dati Filtro di dati Vari nomi Anche questo Ha degli stili Anche questo Ha varie opzioni Ha larghezza Pulsanti Eccetera Ma che serve Serve a selezionare In questo caso Un venditore specifico Debora per esempio Da notare come il totale Ricalcola tutto Perché se ci entriamo dentro Vediamo che cosa c'è Subtotale 109 Ti rimando la funzione Subtotale Argomento del corso Excel Base Base Ma possiamo anche Tenendo premuto Control Selezionare un altro Venditore Ecco qui Andrea Quindi abbiamo Le vendite di Andrea Le vendite di Debora Il totale O meglio il subtotale Funzione 109 Somma Ma non la somma normale Bensì la somma Che non somma I valori nascosti L'abbiamo visto Nel corso Excel Base Nella lezione Della funzione Subtotale E se voglio Posso anche Eliminare il filtro Da qui Ovvero Seleziona Di fatto Tutti quanti I venditori Per maggiori Delucidazioni Ti rimando Al corso Base Per la subtotale Al corso avanzato Per gli slicers Che di fatto Sono identici A quelli utilizzabili Nei pivot E noi quindi Ci vediamo Su masterxl.it Dove puoi trovare Video tutorial Esercizi E corsi Di Excel Online Ti aspetto Sul mio sito